La politica che non può appassionare, quella che sarebbe dovuta essere vissuta in altri termini e con altri modi. Ancora di più perché i soggetti in questione correvano a braccio nell'ultima campagna elettorale. E' bastato proporre una commissione per valutare se metterla in piedi o no e questi sono alcuni passi che ne sono seguiti. Nell'ordine ascolterete Roberto Canzio, assessore della Giunta Terre di Brucchi, Guido Campana, ex assessore del primo mandato Brucchi e Vincenzo Falasca di Futuroin, che richiamerà ad un decoroso atteggiamento i protagonisti. Noi questa città la dobbiamo rispettare, non stiamo parlando di un paesotto e noi siamo quelli che dovremmo avere la responsabilità. E' questo che a me mi dispiace, perché per fini personali, che siano elettorali spero, ma qualche dubbio voglio dire che anche ce l'ho. Io con la feda sindaco non ci ho mai guadagnato nulla, o solamente con la... no lei però il sindaco deve dire a qualcuno della sua giunta se l'assessore Campana all'epoca aveva la porta chiusa o aperta dell'ufficio. Se le è mai arrivata una parola fuori posto dall'assessore Campana. Mi dispiace veramente per il Consiglio, per voi, per tutti. Non si può scendere su questioni personali. Non ha senso. Non è onorevole per voi e per questa Sara. A proposito, la Commissione non si farà. 14 contrari a 11 favorevoli con un astenuto, ma erano andati via anzitempo Cardelli, Bartolini, Pomante e Di Berardini in Consiglio. Non c'era stata traccia. Potenzialmente sarebbe potuto essere un 14 a 15. Ultima considerazione. Il consigliere Giuseppe Grande, eletto nerista Brucchi, aveva appoggiato la richiesta della composizione della Commissione ad hoc, andando oltre le volontà del suo esecutivo. Insomma, una brutta pagina, dalla quale non si salva nessuno. maggioranza, opposizione e dissidenti.